Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Questa mattina sarà ufficialmente presentato il documento firmato da 20 consiglieri comunali contenente la mozione di sfiducia al sindaco 5 Stelle di Avellino Vincenzo Ciampi. Motivazioni ineccepibili, non c'è che dire, e però a mio avviso in quella mozione ci manca un passaggio che la vostra Mila Martinetti avrebbe sintetizzato così. Noi 20 firmatari della sfiducia ci impegniamo altresì a non ricandidarci alle prossime amministrative, perché cari avellinesi il problema vero non è mandare Ciampi a casa sua, ma tenere noi sotto chiave a casa nostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti.